2 oddio ma non è possibile no bella e chi tra malissimo e grana se siamo arrivati con un nuovo episodio qui su le nostre app mattutine ma che non è mattina però bene si siamo con la prima app che ovviamente è a a a e questo è solo una e solo due a a a a a non è tipo batteria ta 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 mamma mia difficilissimo il primo livello i primi livelli sono semplici quindi andiamo proprio schippamo veloci a livello 30 di botto bam c'era giusto per far vedere perché tipo guarda lo guarda oh oh ma ma che mi è Dai non ci entrano Allora vai 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 Non so però Non toccano Questo è il livello dove mi sono bloccato io Il primo ha preso Oh numero Oh che culo Mancano sette Ok ci siamo No Era quasi fatta Comunque per me il trucco è andare a 2 Che si chiama Che si chiama AA2 Che si chiama AA quindi fai 1 2 Prova a dire AA e premi mentre fai AA AA ACAB AA C2 Troppo veloce devi fai AA AA No no aspetta No ma voglio provare la tua tecnica Innovativa Aspetta Può essere Può essere AA 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 Eh troppo AA Devi farlo sempre uguale AA 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 Vedi così AA 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 Coglione Non l'hai letta Non l'ho letta Non l'ho letta Non c'è una teoria Però sono appena inventata Dai Lo sai che da oggi Girare in tutti i form Come date la tecnica innovativa Per vincere 2 E' andata E' andata lì E' andata Sì Cazzo Mamma mia Livello 31 Basta cambiamo app Andiamo a giocare ad un'altra app Che ti fa sclerare Che oggi è la giornata Dele sclero app Zigzag Il mio best score E' 86 La sinistra Il dribbling Fantastico Cristiano Ronaldo Solo quella L'app Lo so Non beh però Cristiano Ronaldo Ancora I vari dribbling Intanto cambia colore E' andata tutto viola Mamma mia Guardate Quale skill Supra record L'ho fatto Si l'hai fatto E ora diventa tutto grigio E ancora Mamma mia Darryl 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 Ci sta mettendo di impegno Mamma mia Guardatelo Guardatelo Non mi fermo più Guardatelo Oddio Eh qua è tosta Qua comincia a essere tosta Porca troia 184 però Incredibile Scrivete subito Quanto avete fatto voi Subito Te conviene mettere tu dita E' più Una a destra e una a sinistra Anche se non conta niente Però è più Aspetta che ci devo rendere la mano Bello Due Qualcuno avrà battuto questo record Eh non so quando Cioè Come Hai capito Cioè non so quanto ci mette a percorrere la cosa E' giusto Ora 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 Non è per te Ci riprovo io Ribattiamo il nostro record Ribattiamo il mio Record di 184 Vai Ci siamo Ci siamo Musica Epica Su sto fondo Comincia Ora Vai Guarda il primo casco Oh 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 Olè Musica epica Finisce Mi lancia l'iphone Allora Adesso andiamo Questa è la mia app Sull'app Perché io su questo ho fatto i peggio record Mentre stavo accesso Crossy road Aspetta che ci abbiamo il regalo Taaack Boom 85 pezzi La mia carta l'altra volta me la devo 500 Porta Non so per cosa Non so bene ma cosa sarà mai Io voglio troppo il coso Il mac Quello là che lancia i cosi Quello che lancia i pistoli Quello che spara È un transformer ovunque Boom Dingo Vabbè ma non lo so che cosa No prendi Prendi Aspetta prendi No 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 Io però Ehi mandingo Perché c'è stato Oh cazzo Cambi Le fai mettere Tipo la musichetta Quando c'è Aspetta io voglio mettere Quello Io volevo questo Però non mi hanno fatto Lei è poca Ecco come ragazzi Io voglio prendere Il signore nero Il signore nero è troppo figo Perché quando passa diventa tutto Nero Cioè Fa così Esce tutto Vedete come cambia tutta la cosa Non so chi c'è gioca A Crossy Road Diteci Diteci quanto Quanto fate voi Su Crossy Road Era bello il fantasma Boom Vai Cestista 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 ce l'ho È bellissimo Perché palleggia Vai 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 Oh Numeri Numeri Perché non ho premuto Allora Guardate La tecnica migliore è questa Guardate Aspetta Vai La tecnica migliore è questa Aspetta No no Se ne riuscivi Aspetta Proviamo questo L'unicorno Tipo arcobalini dietro Che è Troppo figo È vero Aspetta Non voglio provare a fare la tecnica quella lì Vai Non sa mai fermarsi Non ho capito Però No Vai Vai Ma tu sai che se sei fermo di portia via il coso Si Oh incredibile Fantastico Unico Occhio Occhio Cogliore Vanna di lato Cogliore officer Allora abbiamo vinto un premio t E poi se proprio sto prendendo il coso Vai Vai Ma il fenena Sommato Ma il fantasma è bellissimo Veramente bello bello Attenzione Attenzione Oh Bomba Mi infbombato va va il bombato va corre e va il bombato corre e va ma che è il 95 il bombato se ne va ha fatto una cazza non è vero mamma mia che stava per fare ultimo dettaglio di otizioni se fa questo record lo fa se non lo fa non lo fa se vi è piaciuto questo video fuori fuoco fuori fuoco nel fuoco fuoco nel fuoco vabbè comunque se vi è piaciuto questo video lasciamo tanti like e consigliateci qua sotto delle app che vorreste vedere che potremmo fare e vorreste vedere in un nuovo video delle random app noi ci becchiamo al prossimo video e bello ciao